bella vecchi drama di bentore qui sul canale grazie siamo tornati oggi dopo due vittorie e due sconfitte in questa bellissima divisione a cui siamo veramente molto affezionati e niente stiamo a 6 punti 2 vittorie 2 sconfitte 6 partite mancanti e comincia odio quelli con la maglietta rosa odio il che perchè l'ho deciso io è cross, la vera fa c'hai i tasti miei ma perchè non c'è st'acquero? non c'è stacquero c'è sta a rigge ahi mirai si mirai si mirai si mirai si si tu rie e poi mirai guarda il taglio il taglio mio vado di margina che si è fermato beh si è fermato io l'ho una dritta scatta al portino te lo giuro su mio padre si è fermato io l'ho dritta mi ero scattato al portino era go easy che fai che lo lascio e lo suo credo no che cadono ma già sono a zero ne lo so è colpa tua che ti devo fare ma fa fa culo dai con i passaggi di merda fai che ti devo fare che rientra dai lo fanno sempre pure noi eh state tranquillo infatti mi ha fatto un cazzo vedi lancialo via vai vado a 2 e 1 mi vieni dammi guarda di maria in realtà io ho visto coso a zar la però che mi hai chiesto di maria l'ho data di maria ma è stato troppo simpatico ma tu c'è tu mi hai chiesto di maria che cazzo fai ma tu vai non è cosa che ti appartiene tu fai dreaming dai dai dove ando su no ha rascattato di maria dove ando su aspetta stai tranquillo dai ma cazzo oh fallo ma da cazzo fallo per il gol yeah oh 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 che merda vabbè 1 a 0 eh guarda che di culo for the win for the life for the win the life win for life oh hai rotto il calma che fisico c'ha quello bello vero ti piace fisico ma la casa è una domanda non cambia il mondo vabbè vuole tranquillo non ti preoccupare non ti preoccupare non ti preoccupare mi spiace che è mo fallo e fallaccio è giusto vabbè non ti preoccupare lo so guarda ma dovevi stare là davanti mannaggia ti fai fatacchi così ma no sei proprio impertinente oh fuori guarda che poi è il fine del episodio stavolino mi stasso del veleno capito cioè or caputana bravo mi viene fuori mi viene fuori mi viene fuori mi viene fuori per cui tu guarda come andava a piare gol eh perchè li hai passata da te no perchè li applauso scusa eh vai azar azar che era ma perchè vabbè ma infatti si bravo mazza oh no con te no io ho dato ho dato lo sbagliato io ho chiesto no no ma ma no che vuole la per lo spasso il risultato che vado il vuoto buona 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 porta un po' d'aventato il mandato fuorigioco macchie ricordi modi a piccoli pausa del fratello chi ammessa poppizio magari non penso che incroci non ci sono per lo potente per il senso di rivoluzione non occupa non stai tranquillo madonna mia porco 2 porco porco 2 dai no ma che cazzo sei dai porco 2 ma ti giuro hai una guarda che l'hanno l'abbiamo sempre tirati con ben in siligori non hai capito non so perchè ha tirato così al lato tra l'altro avevo tirato ben in siligori ma sta partita per demo guarda non lo fanno cazzeggi così che la perdiamo quale perdiamo stai tranquillo lo vedi azar lo vedi dai vedi vabbè fitta mannato vabbè stai mannato che faccia tocompany ancora mamma mia azzeggia che devo farla era uscito io ho fatto il panoletto se poi c'era mozzarella ti ricordi 3 a 0 4 3 ti ricordi perché ero non so se ti ricordi bene il perchè non è un po' di scegliere bello che cazzo è una differenza riparare ma non ti mangiare come so dire chi è sfacchire è facile è come il burro però così entrava guarda vedi palonetto è davvero il coglione non c'è niente cioè è proprio stupido quello non riesci a apelonetti vieni ma non li fischia più mo no perchè ti ha fatto una cazzo da la ah quindi dice 3 non ti do vabbè basta 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 guarda che al secondo tempo cambia tutto come quel video lato ricordi metti in mezzo pensavo che schiassi capito metti in mezzo vabbè ma io guardo il ragazzo è un po' cambia tutto io dico ma devo insegnare che devo fare e perchè cuore che sto dio e non entra più in ti che ti devo fare quando è che fischia questo gandhi ho letto vabbè 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 anche 8 vabbè vabbè ma sono soltanto c'è stato non vabbè volete farlo non c'è ma che è riuscita a segnalare cominciò a guardare il quadro di me lo sai qual è il tuo problema tu sei troppo ansioso prendi un gol pare che chissà che succede perchè so come vanno a picchia queste cose magari anche un giallino ma te veramente se non fanno serie a perdere questa partita stiamo facendo serie cioè giallo a chi l'ha dato a me o a lui ho deciso che potremmo far Melina perchè sennò perderemo ah Melina al sessanta quattro centri guarda dai un altro giallo ok perchè hai da Roma sto dentro al campo un pratica al camera dai ma da Guero? no ma da Sar perchè si perchè mi sta più simpatico fa meno cappellate da Guero guarda la Sar guarda l'intanto di Mariano a disturbare il portiere va a disturbare il portiere ti ho detto come si fa ti ho detto come facile facile cazzo ci vuole tanto perchè io ho disturbato il portiere hai visto così ma io mi sono andato hai visto? l'ho fatto apposta ho detto oddio ma che cazzo ci sta qua dietro avete segnato 6 a 1 voglio far 7 a 1 come Manchester olè finisce qua 6 a 1 che vittoria tanto la prossima la perderemo malamente perchè è sempre così quando diciamo 6 a 1 o 7 a 1 e niente lasciate il like qua sotto ragazzi questa stagione è quella buona non lo sento dai eh bella ciao 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 ciao